Per l'Ucraina in fuga dalla guerra l'Abruzzo è una terra di speranza. Ad oggi la regione Abruzzo ospita quasi 7500 persone, la regione che ha accolto più profughi ucraini in albergo al momento. A fare il punto sui numeri attuali il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini. Ad oggi siamo sul territorio regionale con una presenza di circa 7500 persone di cui abbiamo sforato il tetto di 4000 negli nostri alberghi. Un numero considerevole che colloca la regione Abruzzo al primo posto nell'accoglienza alberghiera in Italia. Ma ci sono anche molte persone arrivate dall'Europaese malate che hanno bisogno di assistenza. La protezione civile regionale sta offrendo supporto anche da questo punto di vista. Tra questi ci sono malati oncologici, fragili, persone che hanno bisogno di assistenza continua, medica e psicologica. Servono strutture adeguate per poter ospitare questa popolazione fragile e dopo varie difficoltà la protezione civile ha preso in mano anche questo aspetto, il stretto coordinamento con ASL e prefetture. C'è un tavolo permanente infatti che si occupa di questa problematica. Noi abbiamo organizzato un tavolo che settimanalmente si riunisce con le ASL, con le prefetture e con tutti gli stakeholders interessati a questa emergenza. È un'emergenza di protezione civile per cui ovviamente i numeri richiedono un'attenzione particolare anche sul piano sanitario. Le ASL si stanno organizzando per dare una risposta. Per esempio su Teramo abbiamo autorizzato l'apertura di due ambulatori supplementari alla ASL sia per medicina di base che anche per pediatri. Per cui da questo punto di vista stiamo rispondendo. C'è da dire che man mano che i profughi faranno richiesta di permesso di soggiorno verrà loro rilasciato il codice fiscale e con il codice fiscale potranno richiedere il medico di base o il pediale di libera scelta al pari dei cittadini italiani per cui entreranno nella rete di assistenza ordinaria.